Quanto rimarrà a Londra, sottalegnante? Un ritorno in Italia del 10. Un ritorno in Italia del 10. Sai che è un po' l'invidia, perché Londra deve essere proprio una bella città. La mia impressione... La posso vedere Londra. Eh, ma la può sentire, la può sentire sicuramente, la può sentire.